ciao ragazzi e benvenuti in questo video oggi ragazzi innanzitutto grazie grazie di tutto perché ieri abbiamo raggiunto 600 iscritti abbondantemente passati in quanto oggi siamo arrivati a 611 raga in questo preciso istante poi non lo so stasera stiamo progredendo veramente alla grande quindi mi fa piacere e quindi volevo ringraziarvi perché c'è ho fatto un anno quasi un anno su youtube devo fare a ottobre non mi ricordo il giorno precisamente se qualcuno lo sa mi scrive tutto sotto sotto nei commenti ma oggi ragazzi siamo con un video assolutamente epocale abbiamo uno zainetto give me please dove abbiamo dentro il mondo c'è l'universo in terra e qua dentro raga quindi mi raccomando passiamo a venire da cioè volevo rimanere qua in no non dobbiamo vedere quindi mantieni non mettere il dito davanti please comunque qua c'è un mio amico top secret raga come si chiama andrea vabbè comunque passiamo al preferiscono andare generalità generalità infatti allora passiamo lo scartaggio raga abbiamo un coso per il telefono quella che serve per fare i selfie dai marocchini comprato ne abbiamo chiaramente un altro ed è certo uno verde e uno nero ragazzi che cosa sono fiesta alba si chiama non lo so che cosa sono quindi oggi faremo il mondo più totale sono quelli la di alba che alba chiara di alba quello la della ferrè la fiesta uno snack raga poi 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 due snack raga e alla fine vabbè il coso per il gas proprio così alla cruda vanita e in più un caricatore portatile detto anche adb piccoli acronimi raga allora noi passiamo immediatamente all'attacco perfettissimo ci siamo organizzati allora abbiamo il minicizio abbiamo il gas quindi lo possiamo accendere comunque ragazzi se vi vedete scappare col tappando le orecchie non vi preoccupate ma io odio questi rumori fortissimi quindi tu dici che cosa gli sprechi a fare il minicizio se non lo li senti ragazzi non lo so l'importante è sparare ora siamo pronti dopo spari pure uno tu che spettacolo perfetto ragazzi secondo round questa volta il minicizio lo posizioniamo da questa controlla cioè tu vieni un po' ciupicina se no vai allora io tu sei fermo da la per cortesia un po' più la perché se no ti scoppi in faccia e ti dobbiamo ricoverare in ospedale io me ne scappo dall'altra avanti così missione compiuta ora ne spariamo ragazzi questa volta ne spara uno il signore qui a fianco a me quindi leva i diti davanti però è i diti i diti raga i diti non le dita i diti così diceva il mio professore di pianoporto leva sti i diti dai tasti comunque vai io mi sposto ha fatto il vulcano raga il vulcano guarda qua guarda qua che figato vai passiamo prossimo step raga ragazzi siamo quasi agli ultimi step e quindi dobbiamo assolutamente accelerare il passo quindi raga guardate dove l'abbiamo messo allora conti tanto infatti noi siamo su un ponticello fai vedere cioè ponticello raga sotto che c'è il fiume guarda qua fiume sotto guardate dove ho messo i minicicciolo raga si si poi zoom io non vi preoccupare poi zoom io con il programma ora o guardate dove l'ha messo c'è va bene quindi tu ti deve a posizionare dall'altra ti vede sicuro ti vede pronti raga eh vai perfetto raga noi stiamo andando a cercare altri posti dove porca vacca aia le spine porca vacca dove fare dove sparare un pochino visto che dall'altra ci hanno sgridato che c'erano gli animali che si spaventavano andiamo cadere attenzione cioè guardate qua vai avanti tu come perché perché siamo non siamo già incastrati mi dicono eh vabbè io tengo pure le scarpe buone raga guarda qua le scarpe bianche ma io non l'ho capito guarda eh che è successo mi sembra una scimmia ti vuoi muovere vai andiamo da qui qua c'è l'acqua guarda che caccuna raga guarda pure l'altra guarda guarda pure l'altra guarda vabbè attenzione oh la e ci siamo ci tocca fare quello con l'aratro si è rabbia quello con l'aratro che è di là non so se senti di rumore credo di sì comunque raga siamo quasi giunti alla fine di questo vlog aspettate che giro ci rimane soltanto da fare l'ultimissimo step e quindi raga tanta tanta roba ma dov'è che dobbiamo sparare? è un luogo particolare che c'è un fungello no no là è troppo lontano no ed eccoci ragazzi con l'ultimo step ovvero il quinto mi pare è quinta? non mi ricordo non ti ricordo vabbè raga guardate come avevo posizionato i ciccioli fai vedere tantissima roba raga cioè io accendo qua la fiamma e esplode il mondo quindi mi raccomando lo prendi bene e poi ti allontani allora qua non è che ci dobbiamo tappare le orecchie una sola volta ma tre dobbiamo tappare qui vai no non mi faccio ma nooo ma nooo ma nooo cioè voi non avete visto che cosa è capitato non avete cioè io forse ve lo farò vedere all'endatore se si è visto ma cioè uno è scoppiato l'altro l'ha fatto volare da là e scoppiato in volo immagina se ce l'ho io vado raga ragazzi non fatelo a casa eh piccola trasmissione comunque ci vediamo più tardi bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto grazie ancora di tutto veramente perfetto il mio amico che stava chiamando il cane vabbè niente eh commentate condividete fatemi sapere che di questo video che cosa ne pensate ragazzi non fatelo a casa quella cosa che abbiamo fatto noi perché veramente è pericoloso e niente da boxgames è tutto con questo mega vloggone raga e noi ci vediamo al prossimo video grazie 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 grazie